ciao a tutti video in diretta night nuovamente dopo i primi dieci episodi che abbiamo raccolto su youtube facciamo una seconda stagione altri dieci episodi ok sono un po di serie che non ci sentiamo anche perché c'ho anche un po un'altra vita a volte ho sonno a volte ho altro da fare ma più spesso ho sonno però quando mi ricordo torno qui da voi ad ammorbarvi con qualche film classico da vedere quindi cazzeggio ancora un minutino nell'attesa che i soliti sospetti si colleghino per vedere questa nuova line e intanto comincio a dirvi che il film di cui voglio parlare stasera è un film molto importante per me molto importante in generale ed è una discreta mazzata nel senso che richiede una visione magari un pochettino un pochettino concentrata diciamo soprattutto perché si tratta di un film che a differenza di molti film tra virgolette del cuore che uno potrebbe avere è un film appunto che non si guarda tanto con il cuore o non si guarda tanto con la pancia diciamo ma si guarda soprattutto di testa quindi uno di quei film un po intellettuali che caratterizzano diciamo in modo particolare il mio essere un intellettuale spocchioso ciao paolo spocchioso e di sinistra che sicuramente snobbissimo nelle sue visioni ma comunque insomma passiamo a dire qual è questo film il film è un film di Jean-Luc Godard che è un regista che magari ecco non è tra i primi che direi quando dico i miei registi preferiti perché sicuramente è un po' challenging come si direbbe in inglese un po' sfidante ecco un po' però insomma una sfida che dà sempre grandissime soddisfazioni in particolare a me le dà con un film del 1962 che questa è la mia vita vivre sa vie che Godard gira nel 62 appunto uno dei suoi primi film con Anna Carina che era sua moglie all'epoca Anna Carina icona assoluta della nouvelle vague francese con questo taglio che si vede comunque anche nella copertina del dvd taglio alla Louise Brooks proprio è noto che Godard quando si iniziava a girare questo film disse alla truccatrice Nanà la protagonista del film interpretata da Anna Carina Nanà è Louise Brooks quindi doveva essere truccata e pettinata come la diva degli anni 20 e 30 di film come il vaso di Pandora di Pabst e che poi diede origine anche nel tempo a quel tipo di look che da noi in Italia si chiama il look alla valentina di Crepax per dire più conosciuto per quello il caschetto tipo il mio no? così però un po' più corto del mio che in quarantena non ci sono i barbieri io non c'ho voglia di usare i rasoi e quindi siamo sempre più sul lungo allora dicevo questa è la mia vita due parole anche su questo dvd che è molto interessante il dvd è un dvd oggi non si usano più tanto i dvd si usa a guardare i film in streaming anche i film come questa è la mia vita lo potete trovare interamente su youtube ovviamente in francese con sottotitoli però si trova tutto gratuitamente ed è un dvd no dov'è? ah qui è un dvd rhv della replay song video era una collana di dvd che a me piaceva tantissimo faceva tutti questi film particolari della storia del cinema un po' come in America la Criterion Collection che è una collezione di dvd di film classici e bellissimi che spaziano appunto dagli anni 30 40 fino agli anni 70 80 e che hanno sempre delle edizioni molto belle questa è un'edizione particolare più di tanto non c'è dentro non è un doppio disco però aveva già una bella intervista a Godard al suo interno vogliamo raccontare brevemente la storia del film allora la storia è la storia di Nanà una ragazza che decide di mollare marito e figli mollare la sua vita cioè mollare la sua vita tra virgolette borghese e di vivere la sua vita come vuole lei in sostanza vorrebbe diventare un'attrice si fa un servizio fotografico comincia a lavorare come commessa in un negozio di dischi non riesce ad ingranare a un certo punto fa un servizio fotografico nuda lì guadagna qualcosa viene fermata dalla polizia insomma qualche scamottaggio e così a un certo punto incontra una vecchia amica prostituta che le dice vedo che sei in una situazione finanziaria un po' così potresti fare come me e la avvia sulla strada della prostituzione che lei però Nanà non ha molto chiara quindi la fa incontrare con il suo protettore Raul che le spiega tutti i segreti della prostituzione dopodiché Nanà comincia a fare la vita appunto in un giro di clienti sempre più perverso ma neanche poi più di tanto perché comunque non si tratta di un film erotico le poche scene di nudo sono di spalle insomma non è quel il senso dell'operazione di Godard se non che in pratica alla fine Nanà si innamora di un giovanotto o meglio un giovanotto si innamora di lei lei vorrebbe uscire da questa vita di prostituzione ma Raul decide di venderla ad un altro protettore e in questo scambio di merce diciamo così c'è una sparatoria e Nanà muore insomma vabbè non è che svelandovi il finale del film ci sia chissà quale spoiler perché non si può parlare di spoiler in Vivre Savì di Godard perché si tratta di un film che mette veramente un filtro tra l'azione e gli spettatori quello che normalmente quando si fa analisi teatrale o cinematografica si tende a chiamare il cosiddetto filtro brechtiano cioè questa recitazione assolutamente straniata straniante poco coinvolgente che Godard aveva da poco studiato in un articolo scritto un paio d'anni prima sui Cagliari di Cinema di cui lui era una delle penne più prolifiche assieme a Truffaut e agli altri registri della Nouvelle Vague e quindi cosa fa? decide di adottare questo procedimento di straniamento dell'attore anche al cinema ma nella idea stessa di cinema che lui ha ad esempio il film Vivre Savì è costituito da dodici mi sembra siano dodici tablo tablo cioè quadri questa è una struttura che Godard dice esplicitamente di aver preso da Rossellini il nostro Roberto Rossellini che con Francesco Giullare di Dio aveva fatto un film a episodi di questo tipo Godard però la gira in un altro modo crea straniamento già nel mettere dei titoli titoli come ad esempio vado a leggere perché non me li ricordo a memoria nel primo tablo si intitola un bar Nana vuole lasciare Paul che sarebbe il marito un flipper allora questi titoli che adesso per esempio usa moltissimo anche Tarantino e Tarantino li mutua da Godard perché Tarantino nonostante sia un divoratore di B-movie ha anche tantissimo amato Godard la sua casa di produzione in una casa si chiama Banda Park con un gioco di parole sul film di Godard questo vezzo dei titoli dei tablo che dividono in capitoli il film l'ha preso di peso da Godard anche quello e non a caso comunque in un giro che in un serpente se vogliamo che si morde la coda anche Godard dedica Vivre Savi ai B-movie perché comunque Godard anche con il suo esordio all'ultimo respiro ha voluto in un certo modo fare un noir un B-movie se vogliamo poi ovviamente il suo linguaggio era completamente diverso innovativo e quindi il linguaggio di Vivre Savi è tutto così distanziamento dello spettatore nella prima scena vediamo Nanà e Paul che parlano lei vuole lasciare il marito sono sempre inquadrati tutti e due di schiena cioè non li vediamo mai in faccia una roba che elimina ogni possibilità di identificazione emotiva con i protagonisti e mette un distanziamento incredibile una cosa che veramente può dare in testa quando guardi un film del genere però è veramente ammirevole anche l'uso del piano sequenza c'è tutto un piano sequenza nella prima parte del film in cui Nanà lavora come commessa nel negozio di dischi secondo Godard il piano sequenza cioè le inquadrature senza stacchi di montaggio erano un modo per far emergere le azioni casuali le piccole casualità appunto che accadono e che altrimenti tu taglieresti in montaggio non le vedresti il citazionismo a un certo punto Nanà disperata perché non sa più che cosa fare della sua vita si ficca in un cinema e va a vedere tra l'altro scelta incredibile va a vedere la passione di Giovanna d'Arco di Dreyer che è un famosissimo film della fine degli anni venti con René Falcone T inquadrata spesso in primo piano mentre piange durante il processo di inquisizione nel ruolo di Giovanna d'Arco e c'è questo parallelismo tra il volto di René Falcone T e il volto di Anna Carina che piange mentre guarda il film quello ecco quello forse è l'unico momento in cui l'uso veramente del primo piano dà una botta emotiva anche allo spettatore e poi che altro dire sempre per quanto riguarda il distanziamento la scena in cui Raul il protettore le spiega spiega a Anna tutti i segreti della prostituzione il lavandino come dare piacere a un uomo tutte queste cose qua sono prese di peso elette quasi in modo didascalico da Raul prese di peso da un'inchiesta sul mondo della prostituzione alla quale Godard in effetti si ispira per questo film e di cui in pratica prende dei brani interi riportandoli nei dialoghi del film un'altra roba che ha fatto andare probabilmente fuori di testa gli spettatori e i critici dell'epoca è che verso la fine del film c'è una scena lunghissima che nella versione italiana è stata anche abbastanza sforbiciata di Nanà che parla e si fa una chiacchierata incredibile a tema filosofia del linguaggio con un vero filosofo francese Brice Parrain un semiologo linguista che si presta a fare questa lunga chiacchierata con Nanà e fanno filosofia senza saperlo questa nelle parole del tablò di Godard vi faccio vedere il trailer anche perché poi mi si secca la gola a forza di parlarvi e Vivre Savi è uno di quei film di cui potrei parlare abbastanza però anche vedere qualche immagine ecco questo vedete è tratto dalla Criterion Collection Wemax ecco Anna Carina di spalle tutti di spalle sempre di spalle Champs-Élysées anche se non avete visto il film avete sicuramente visto un'immagine del volto di Anna Carina che come dicevo prima veramente l'icona della Nouvelle Vague nonché moglie di Godard durante questo film lei ebbe abbastanza un esaurimento nervoso e tentò anche il suicidio questo è un trailer molto moderno anche tutto basato sulla musica e gli stacchi di montaggio e qui in Anna che si porta i clienti in camera nelle varie scene diciamo di prostituzione sono sempre dettagli vestizioni svestizioni niente di particolarmente pruriginoso perché come dicevo non era quello l'intento di Godard lei bellissima in ogni scena indimenticabile questo è Brispareini il filosofo con cui lei chiacchiera di filosofia e questo è il giovanotto che si innamora di lei che è Pier Cassoviz il papà di Mattio Cassoviz il regista ecco qui siamo sul finale del film momento di silenzio vabbè il film come c'è scritto qui è vietato ai minori di 18 anni ed è tratto da questa inchiesta una è la prostituzione a che punto è la prostituzione facciamo il punto sulla prostituzione niente che altro dire ah vi ho detto anche questo piccolo questa piccola chicca che il ragazzo che si innamora di lei è Pier Cassoviz il padre di Mattio è il regista e mi piace sempre ricordare che questa scena in cui lui la nota per la prima volta è una scena in cui sono tutti in un bar lei nana Raul il protettore e lei è annoiata è un po' scocciata e già nel momento in cui sta cercando in qualche modo di cambiare vita mette una canzone nel flipper e comincia a ballare in modo sensuale per farsi notare da questo giovanotto interpretato da Pier Cassoviz questa scena per gli estimatori del trash primi fine anni 90 primi anni 2000 è stata palesemente ripresa nel video di Il Genio nella loro immortale canzone tu sei cattivo con me perché ti svegli alle tre per guardare quei film porno pop porno ecco è arrivata a Silvia proprio mentre cantavo pop porno quindi pop porno del genio è un'unica lunga citazione di quella scena del film di Godard dopo aver detto questo veramente non so più che cosa dirvi su su questo film di Godard se non che appunto il linguaggio del film è veramente sì è veramente particolare cioè è da guardare per questo motivo sostanzialmente cioè perché per me è Vivre Savi è un film del cuore beh intanto perché c'è Anna Carina Anna Carina in questo film credo sia la la donna più bella che potete vedere in un film della Nouvelle Vague francese oddio sì ci sarebbe anche Jean Moreau che per me è anche più bella però Anna Carina è l'icona assoluta non c'è storia cioè vedete lei vedete il suo taglio di capelli in questo film ed è è la Nouvelle Vague non c'è niente da fare e poi appunto il linguaggio anche fastidioso anche questo questo insistito inquadrare le persone di spalle stacchi di montaggio con raccordi che non c'entrano nulla è tutto per distanziare per mettere distanza tra lo spettatore e la potenziale identificazione un film freddo ma una volta che l'avete visto nella sua freddezza comunque c'è anche del del calore umano nel senso c'è della vicinanza ai personaggi non è così distaccato come vuole far credere di essere anche perché appunto dietro le quinte c'è comunque la storia di di un uomo una donna un marito una moglie Jean-Luc Godard e Anna Carina che al tempo erano sposati di lei e dei suoi esaurimenti nervosi dei suoi tentativi di suicidio del fatto che poi i critici avessero accusato Godard di aver voluto sfruttare in modo squallido la figura della moglie per farla interpretare una prostituta tanto che lui dovete comprare una pagina sui giornali se non ricordo male per dire che in realtà lui amava sua moglie e che questa era come una lettera d'amore per la moglie di altro non vi dico nulla se non che appunto come abbiamo detto all'inizio lui Godard realizza questo film in 12 tablò per citare un po' il discorso che aveva fatto Rossellini con Francesco Giulare di Dio e Rossellini comunque è a sua volta un nome tutelare della Nouvelle Vague francese ma Rossellini quando vide Vivre Saville disse a Godard attenzione perché tu ti stai spingendo un po' troppo sulla strada dell'antonionismo e Michelangelo Antonioni era fortemente disprezzato da Godard in quanto incomprensibile e ultra borghese sull'incomprensibilità di Antonioni ci può stare però anche Godard a volte ci ha messo del suo e su queste perle di critica cinematografica che provengono da dentro di me da dentro questa persona che vi sta parlando in queste live allucinate durante queste notti di quarantena vi saluto e vi do appuntamento a un'altra sera che non so quando perché come vi ho detto a volte c'è troppo sonno a volte invece c'è la moglie sveglia e vivace che vuole guardare la casa dei papel che a me invece mi fa addormentare e niente ci sentiamo prossimamente rock'n'roll e resistente grazie a tutti grazie a tutti